Joni, Joni, yes papà, mangia lo zucchero. L'agata è un cibo di quarzo che rappresenta la sua volta molto variante. L'occhio di tigri e la cornalina sono solo due delle più conosciute. Spesso le pietre è dotata di scritture di diversi colori. Esiste una varietà di agata per ogni scopo. Tra le più comuni vi sono le seguenti. Occhi di tigri, proprietà, indiana, protezione, dentri, ticca, viaggi, estriata, guarigione, muschiata, purificazione. Di fuoco, passione e sessualità dal pizzo blu, equilibrio psichico. Pietro e cristalli. Mami, perché non si è mai visto un scheletro volare in paracadute? Mami, perché non si è mai visto un scheletro volare in paracadute? Mami, perché non si è mai visto un scheletro volare in paracadute? Mami, perché non si è mai visto un scheletro volare in paracadute?